Adesso do la parola a Elisabetta Nistri, Presidente della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo Italia. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Grazie per averci seguito fin qua, gli ospiti, i relatori, anche gli ospiti ci seguono ovviamente da casa e gli amici. Ho ascoltato con interesse e mi sono ritrovata e condivido tante riflessioni delle relatrici che mi hanno preceduto. Come alcune di voi io mi trovo a rappresentare due posizioni. Inizierò parlando della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, che non ha un target propriamente religioso. È una ONG con status consultativo, riconosciuta alle Nazioni Unite dal 1997, con uno status di primo livello che ha mantenuto da allora perché è stato riconosciuto ogni anno fino ad oggi. Quindi lavora a livello internazionale con tante attività per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, degli obiettivi appunto per il Sustainable Development Goal, che dal 2020 è stata spostata al 2030. Sono tanti, includono tanti obiettivi come l'uguaglianza di genere, debellare la fammi nel mondo ed altri. Quindi lo scopo principale di questa organizzazione è aiutare le donne a scoprire il proprio valore e sostenere nell'ottenere il riconoscimento dei propri diritti e nello scoprire il proprio valore e le proprie qualità, per poterle mettere poi a disposizione nel contribuire insieme all'uomo alla realizzazione della pace, convinti che le donne abbiano certe qualità importanti che come in ogni campo la donna che è rimasta non ha potuto dare il suo contributo, a maggior ragione c'è bisogno del contributo della donna nella realizzazione di una pace che possa dare risposta alle esigenze e risolvere i problemi dell'intero mondo che è rappresentato aspetti maschili ed aspetti femminili. Le attività che noi svolgiamo sono diverse, posso citare dei gemellaggi, per esempio, tra donne di diversa estrazione culturale, oppure donne per esempio appartengono a nazioni che hanno avuto conflitti in passato. Abbiamo realizzato a Padova un gemellaggio fra donne di Italia, Slovenia e Austria l'anno scorso, due anni fa, come nel momento del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Organizziamo conferenze su varie tematiche, educazione del carattere per i giovani, empowerment femminile, soprattutto rivolto a giovani donne, risoluzione dei conflitti, ultimamente abbiamo avuto degli eventi a livello internazionale su donne impegnate nelle zone di guerra o di conflitto, come nei Balcani o come in alcune zone del Medio Oriente, in cui il loro contributo veramente, il loro impegno, e devo dire che ho veramente ammirato, perché erano anche donne giovani, in paesi dove ancora la donna non ha lo stesso spazio che hanno ottenuto gli uomini, ma avevano una grinta, avevano un coraggio, una determinazione a credere che col loro contributo era possibile migliorare la situazione del loro paese. Abbiamo progetti di aiuto umanitario, come sostegno all'educazione dei bambini in un campo profughi in Giordania, abbiamo più recentemente aiutato anche durante l'emergenza Covid un ospedale di Bergamo e ci stiamo attivate, anzi già abbiamo organizzato una grande raccolta fondi importante rivolta a Beirut a causa di questo disastro che è accaduto appunto nel Libano dove abbiamo potuto contributi alle famiglie che avevano più difficoltà. Non so se sono io che ho creato questo problema. No, ti vediamo bene, ti vediamo bene. Ok, ok, va davanti. L'organizzazione, Federazione delle Donne per la Pace nel mondo, è fondata da Cogniugi Moon, che sono i fondatori di tante organizzazioni per la pace, ma alle origini di tutte, prima di tutte, la principale che ha dato l'organizzazione fondata da Reverendo Moon è stata quella che viene magari comunemente conosciuta come Chiesa d'Unificazione, attualmente chiamata Federazione delle Famiglie per la Pace nel mondo, che si basa su principi divini. Questo messaggio è frutto di rivelazioni ottenute da Reverendo Moon nel corso della sua vita attraverso un sentiero duro e faticoso per non venire mai meno alla promessa che aveva fatto quando a sedici anni ricevette un messaggio da Gesù che gli chiedeva di continuare la sua missione, di continuare il suo cammino e di aiutare l'umanità. Una grande importanza nel messaggio dei principi divini viene data alla Genesi e alla interpretazione delle tre benedizioni. Infatti, come scritto in Genesi, nel capitolo 1, versetto 26-27 E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e domini sui pesci, del mare, eccetera, eccetera. Nel versetto 27 leggiamo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E ancora, Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Questa è la prima dichiarazione dei diritti umani. Uomo e donna sono fatti a sua immagine. Significa che ambedue rispecchiano la natura che è in Dio ed hanno quindi ambedue una scintilla. Le origini del femminile, quindi, sono in Dio nella causa originale e noi dovremmo riflettere la sua natura femminile, così come gli uomini dovrebbero riflettere quella maschile. Dio è nostro padre e madre e noi siamo figli e figlie a sua somiglianza. Alle origini, almeno, questo era, diciamo, una scintilla che Dio ci ha dato all'origine e che continua a trasmettersi ad ogni persona che nasce. Quindi, perlomeno, dentro ognuno di noi c'è questa potenziale scintilla che ci potrebbe permettere di diventare addirittura perfetti, come Gesù diceva, siate perfetti, come è perfetto il padre vostro che è nei cieli. Quindi non è presunzione o arroganza credere nel potenziale che ciascuno di noi ha, come uomo e donna, di crescere al punto tale di rappresentarlo, di, come dire, ecco, sì, di rappresentarlo. Ma crescere in che cosa? Attraverso la prima benedizione, che riguarda appunto l'aspetto di crescere, ogni individuo avrebbe dovuto raggiungere una maturità interiore, spirituale, come uomo e come donna. Quindi questa perfezione significa una crescita del carattere capace di comprendere e amare se stesso e gli altri in modo assoluto. Vuole dire tante cose, ma giusto per darvi un'idea, è una crescita non solo nell'intelligenza, nelle competenze, ma soprattutto nella capacità di amare. Quindi uomo e donna crescono individualmente per raggiungere questa meta ideale che è anche la possibilità di comunicare direttamente con Dio e di ricevere da Lui direttamente guida, ispirazione, consiglio e di comprendere quindi la capacità di amare come Lui ama. Con la seconda benedizione si raggiunge l'unità e l'armonia di coppia che porta a realizzare la famiglia e moltiplicare così l'amore di Dio anche attraverso i figli. Quindi quest'uomo e donna che hanno raggiunto una piena maturità del carattere e un'unità con Dio condividono questa unione insieme a Dio. Dalle parole del reverendo Mulegiamo, Dio ci ha creato perché potessimo conoscere la gioia crescendo e sperimentando il vero amore. Il livello della nostra capacità di amare è lo standard che ci qualifica o meno come persone perfette e veri figli di Dio. La persona perfetta, quella che capisce il cuore e desideri di Dio è la persona che è unita a Dio in amore ed è capace di amare come Dio ama. Nell'uomo, nella donna possono raggiungere questa perfezione, seconda diciamo questo secondo livello da soli ma solo attraverso l'unione nel vero amore che si sperimenta nella coppia. La donna quindi ha un ruolo fondamentale al pari dell'uomo anche se ovviamente con caratteristiche diverse. È come se Dio ci abbia creato apposta con caratteristiche diverse ma interdipendenti proprio per spingerci a sperimentare la gioia del dono e ad unirci per arricchirci a vicenda. C'è un principio che riconosciamo nell'universo che è quello del donare e del ricevere. Ogni cosa si moltiplica o crea energia o si raggiunge la gioia quando noi doniamo qualcosa e quando esiste uno scambio tra gli esseri. Lo scambio tra i nostri pensieri e le nostre azioni prima di tutto e lo scambio poi nella relazione con gli altri, con gli amici. Nello scambio della relazione di coppia questa unione diventa non solo interiore ma anche ovviamente fisica. Il maschile indica una componente, possiamo dire quella razionale, logica, ordinata e il femminile la componente istintiva, emotiva, amorevole. L'armonia nella coppia e nella famiglia è la base del regno dei cieli in terra in cui Dio si può manifestare in modo completo. Nella relazione e nella cura dei figli addirittura noi possiamo sperimentare insomma in questo nucleo che poi è la famiglia addirittura quattro tipi di relazioni di amore. Possiamo prendere come prima la relazione che i genitori hanno verso i figli amandoli, curandoli, avendo cura da loro fin dall'inizio sperimentando questo cuore di amore quasi incondizionato diciamo e anche sacrificale. Poi c'è l'amore tra fratelli e sorelle che condividono insieme tanti aspetti della vita è simile all'amore tra gli amici a livello dell'amicizia poi c'è l'amore che i figli piano piano crescendo imparano a rispondere a tornare indietro ai genitori magari con l'età quando i genitori hanno bisogno di aiuto imparano a comprendere i genitori prima se è un amore molto verticale di rispetto e poi questi ruoli addirittura si scambiano addirittura nell'età avanzata i figli diventano quasi genitori e viceversa e poi c'è quest'amore della dimensione di coppia che magari è proprio il primo da cui la famiglia si crea che assume tanti ruoli, tanti aspetti, tante posizioni diverse addirittura ci sono situazioni in cui la moglie può sentirsi madre nel confronto del marito ma il marito anche può assumere la posizione di padre nei confronti della moglie vista come figlia ovviamente come marito e moglie a livello e anche come fratello e sorella per avere stessi obiettivi, stessi scopi come potete rendervi conto qui si parla di un obiettivo molto grande è una visione nella quale il reverendo Mucci è ancoraggiato a credere ed impegnarci a realizzare noi per primi mostrando gli esempi di amore e cura verso noi stessi e verso il prossimo ci sono quindi dei corsi importanti di formazione per la preparazione al matrimonio nell'ambito del nostro movimento in cui si cerca di aiutare i giovani ad affrontare questo importante impegno con serietà e con responsabilità ho sentito, ecco, riferendomi a quello che ho sentito precedentemente in quanto è stato fatto molto lavoro per fermare il problema della violenza sulle donne ritengo sia anche importante aiutare uomini e donne a comprendere qual è la strada come dire, prevenire questo e aiutare uomini e donne a capire qual è una relazione che funzioni perché tante volte questi omicidi, questi femminicidi passano per una forma di amore vengono addirittura perché l'uomo si sente abbandonato e allora per mancanza di amore quindi si parla veramente di relazioni di amore con delle basi totalmente sbagliate e questo è importante fare formazione soprattutto ed educazione soprattutto nei giovani bisognerebbe aiutare i giovani nel loro percorso di crescita soprattutto nell'adolescenza a imparare a gestire le emozioni a riconoscere le emozioni e a capire come incannarle quali emozioni ascoltarle e capire anche che certi comportamenti portano a certe conseguenze veramente pesanti quindi è veramente importante la formazione dei giovani abbiamo le scuole che offrono meglio che possono per quanto riguarda la cultura ma non si dà abbastanza importanza alla formazione del carattere che poi è quello che ci accompagna nella vita e ci permette di raggiungere più o meno una felicità e anche una serenità interiore quindi questo cammino di cui sto parlando non è un cammino facile anche perché tutti noi veniamo da una storia di conflitti di violenza che portiamo anche nel nostro DNA spirituale è come se noi abbiamo uno spirito che è il risultato anche dei nostri genitori la storia è una storia veramente di sofferenza veramente triste come è stato citato non è solo adesso che le donne subiscono ingiustizie per cui il cammino non è facile in questi corsi di preparazione che noi facciamo al matrimonio cerchiamo di quindi aiutare se ci sono delle problematiche di risolvere prima di affrontare questa relazione quindi partendo da queste basi il nostro movimento è abbastanza giovane e diciamo quindi non c'è una grande storia di violenza all'interno del movimento se non che diciamo c'è un percorso di crescita comunque di consapevolezza del valore dell'uomo e del valore della donna che significa semplicemente crescere nel capire la natura divina che è in noi che ha caratteristiche maschili e caratteristiche femminili per fare questo bisogna assolutamente alleggerirsi dell'egoismo che è diciamo il fardello che ci portiamo e che ci impedisce di crescere e di comprendere veramente la natura più profonda di Dio il lavoro che stiamo facendo come federazione delle donne è anche organizzare dei convegni come quello che sta andando avanti in questo periodo dal tema la bellezza del mondo femminile è stato già fatto un convegno sempre in questa modalità il valore della femminilità dalle origini ad oggi in cui io ho fatto un primo intervento parlando un po' di questo condiviso con voi oggi e poi una psicoterapeuta ha parlato delle società matriarcali in cui la donna nella posizione di leadership aveva più cura per l'ambiente e c'era più armonia fino alle situazioni di oggi in cui lei diceva però notava anche nelle donne nelle giovani una mancanza di carattere in quanto molto attente a mostrarsi e ad apparire a cercare la sicurezza nel modo di esporsi di apparire agli altri è una grande fragilità interiore per cui una giornata sono su e una giornata sono giù senza avere una forza di carattere una forza di volontà è una sicurezza una consapevolezza del loro valore della propria identità il prossimo convegno sarà su donne e dignità quale relazione oggi e l'ultimo sarà il desiderio delle donne di amare ed essere amate questi webinar sono ovviamente dedicati alle donne ma indicati anche per gli uomini che desiderano conoscere e capire i desideri e i segreti delle donne all'interno della federazione delle famiglie quindi sto facendo un salto tra la federazione delle donne che come vi ho detto è una ONG e ha questi obiettivi la federazione delle famiglie è diciamo l'aspetto chiesa invece del movimento alla guida spirituale della comunità nella maggior parte dei casi c'è una coppia quindi è una coppia che guida la comunità guida i fedeli proprio perché questi due ruoli e due caratteristiche insieme si prestano meglio a comprendere e a dare aiuto sostegno spirituale alle famiglie e agli individui che ci seguono in cui marito e moglie si dividono in compiti nel prendersi cura di fedeli ma ci sono anche comunità guidate solamente dalla figura maschile o anche da quella femminile le donne possono assumere quindi stessi ruoli e svolgere le stesse funzioni un grande esempio in questo ci viene dato dalla dottoressa Moon che oltre aver fondato appunto la federazione delle donne nel quale si è occupata molto facendo dei tour mondiali in cui ha parlato anche alle Nazioni Unite adesso dal 2012 da quando il reverendo Moon è andato nel mondo ci ha lasciato dato nel mondo spirituale ha preso su di sé la responsabilità e la guida di tutte le organizzazioni fondate insieme o addirittura alcune anche fondate precedentemente dal reverendo Moon stesso motivando sempre di più le donne a prendere un ruolo attivo accanto all'uomo per la costruzione della pace nella sua guida abbiamo potuto notare aspetti diversi e se possiamo dire più pratici ultimamente per esempio c'è stato un rally mondiale in cui hanno partecipato leader capi di Stato e comunque persone interessate da ogni parte del mondo il suo discorso è stato molto centrato sul problema lei ha molto veramente spinto tutti i partecipanti a prendere responsabilità per risolvere il problema urgente dell'ambiente perché questa terra ci è stata donata e noi dobbiamo preservarla e dobbiamo averne cura per le generazioni che verranno concludo quindi con alcune frasi della dottoressa Moon in cui lei ci ha ricordato il fatto che il ruolo della donna e la sua natura innata siano diversi da quelli degli uomini non significa che il valore della donna sia minore e il suo status inferiore l'infelicità delle donne deriva a volte da non aver realizzato la preziosità della loro natura originale e del loro ruolo dato da Dio i problemi sono nati perché molte donne hanno dimenticato cosa possiedono e hanno tentato di imitare la natura e il ruolo degli uomini come se gli uomini fungessero da esempio per le donne questo è un argomento chiedo scusa volevo chiedere appena possibile di concludere per dare tempo anche alle altre relatrici chiedo scusa infatti stavo concludendo in quanto è un punto su cui mettiamo l'accento che a volte le donne per farsi spazio nella società o per far carriera assumono gli stessi atteggiamenti e talvolta anche gli atteggiamenti non costruttivi non positivi degli uomini noi dovremmo riuscire a fare la differenza mantenendo la nostra identità il nostro valore le nostre caratteristiche e assumere anche ruoli di leadership a fianco degli uomini ma portando il nostro contributo e riuscendo ad essere vittoriosa in questo cammino di riuscire a mostrare la femminilità divina che Dio ci ha donato come una scintilla in ognuna di noi grazie per l'attenzione grazie a te Elisabetta grazie a te